A causa della pandemia da Covid-19, ansia e insonnia, anche in forma grave, hanno colpito maggiormente e sono aumentate nelle madri. Circa l'80% segnala di soffrire di ansia, anche di alti livelli e il 23% di insonnia, contro l'11% pre-pandemia. Lo indica uno studio della Ben Julien University del New Jersey, pubblicato sul Journal of Sleep Research. Allo studio abbiamo cercato per la prima volta le conseguenze della pandemia e del lockdown, sull'ansia materna e l'insonnia, scrivono. Oltre ai problemi di sonno, nei bambini tra i sei mesi e i sei anni, spiega la coordinatrice dello studio. Nello studio è stato chiesto alle madri di rispondere a un questionario sulla qualità del sonno percepita prima e durante il lockdown. Sono sintomi che magari già blandamente si percepivano. E' chiaro che in una situazione di stress emotivo, quale quella del lockdown, e imprevisto soprattutto, il disturbo d'ansia si acuisce. Come reagire? Riconoscerlo sicuramente. Il soggetto ha già conoscenza di un disturbo d'ansia, magari che già si è palesato in altre occasioni della vita quotidiana. Riconoscerlo è importante per poi intervenire, ovviamente con uno specialista, qualora i livelli d'ansia sono esacerbati e non contenibili. Sarebbe opportuno per le famiglie dotarsi di un professionista di riferimento? Beh certo, qualora il disturbo d'ansia fosse così incontenibile come anche con l'insonnia, è sempre meglio rivolgersi a uno specialista, in questo caso uno psicoterapeuta, che possa intervenire e iniziare un percorso terapico anche a distanza, perché durante il periodo del lockdown molti colleghi hanno lavorato, abbiamo lavorato a distanza. Grazie.